Abbiamo visto un paio di giorni fa cos'è un investor policy statement, ho fatto vedere un mio blog post, ho fatto vedere un articolo di Physician on Fire, abbiamo letto e commentato un po' tutto il mio investor policy statement del 2017. L'obiettivo adesso è scriverlo in real time, il documento emethod.rip.ips-all vi porta a questo documento, questo documento lo aggiornerò ogni volta che farò un nuovo investor policy statement, quello che stiamo editando adesso è quello ovviamente di dicembre 2022. Ok? Potete trovare la storia degli altri, bla bla bla, perfetto. Quindi da quel documento, link a quello del 2022, che è ovviamente IPS-2022. Chiudere e andiamo qua. Il primo step dello scrivere un investor policy statement è capire quali sono gli obiettivi. Ok? Ora, Mr. Rip sta venendo online a parlare di obiettivi, obiettivi nell'investing. Allora, citiamo, quali erano gli obiettivi sette anni fa? Raggiungere Financial Independence, entro una certa età, fallito, miseramente. Raggiungere Fat Fire entro un'altra età, probabilmente fallito. e cercare di investire in modo da stare sempre sopra una certa percentuale di Financial Independence. Vuol dire che fare in modo di non scendere mai sotto l'80% del minimo richiesto. Ora, ovviamente, questo qui era fuori controllo. Tutti obiettivi fuori controllo, nel senso che non dipendevano soltanto da me. E in genere non è proprio un buon modo di sviluppare obiettivi. Ok? Obiettivo ovviamente ci sta. Sicuramente Defend, Fight, Inflation. Non lo scrivo bello, lo scrivo, diciamo, elenco puntato, poi lo ripensiamo. Fight, Inflation. Quindi, approccio, modalità, saving, plus. Financial Fire, Fire, Altro obiettivo, qualcosa che ha a che fare con, perché investo, perché investo. Ovviamente, Financial Independence, supporto alla pensione. Fire può volere dire di Fire Spectrum in generale. Fire Spectrum. It's a Spectrum. Consiglio, tra l'altro, anche, per chi ha voglia di leggersi, questo bellissimo post che ho scritto mille anni fa. Come ho detto, non credo più al concetto di Financial Independence, intesa come fino a ieri lo è, non lo eri, oggi lo sei. Non credo che la Financial Independence sia una linea che si attraversa, e c'è un prima e un dopo. Credo che la Financial Independence sia, da una parte, uno state of mind, dall'altra, un continuum. Ci sta quanto libero ti senti, e quanto libero decidi di essere. Su questo qui suggerisco fortemente, fortemente, Money is the megaphone of identity. Questo post di More to Death è molto lungo, è molto lungo. Dai, Lawrence, dai, Lawrence. Money is the megaphone of identity. È molto lungo, ma è un bellissimo, bellissimo excursus sulla povertà, l'indipendenza, l'abbondanza. E c'è un twist finale, qualche risparmio, Basic Necessities, Survival Mode, Fear, Reality, fantastico. More to Death. Money is the megaphone of identity. Un po' di link. Quindi il mio obiettivo non è raggiungere Financial Independence, ma gradualmente arrivare più vicino possibile alla libertà finanziaria e possibilmente abbondanza, ma quello lì non è necessario. Quindi non è un obiettivo quantificabile, non è un obiettivo misurabile, è un habit. No, è come dire, non ambisco a correre la maratona di New York, ambisco a allenarmi tutti i giorni e cercare di migliorare le mie condizioni fisiche. Tra l'altro anche quello è un bellissimo obiettivo. Quindi i miei obiettivi sono difendere il patrimonio dell'inflazione, raggiungere una certa libertà finanziaria e arrivare a far sì che quello che io sto costruendo ne beneficino non soltanto io, ma ne beneficino anche i miei eredi e così via. Ok? Ok. Ora, overall strategy. Qui ero andato abbastanza in dettaglio su cose quasi irrilevanti, su un po' un volo pindarico, su a quale percentuale del patrimonio mi comportavo in un certo modo. In realtà è interessante, cioè ho delle milestone, ho degli obiettivi intermedi, ho una... cioè come mi comporto? Finché non arrivo all'obiettivo, che faccio? Come mi comporto? E quindi proviamo a mettere giù due principi. Tutto non pensato, tutto molto improvvisato, e quindi poi in una seconda iterazione magari la approfondisco e miglioro. Ok, ovviamente intanto partiamo da cercare. Try to try to keep saving rate maggiore di zero. At least until ideally forever. Realistically until net worth maggiore di 200% non lo so, non lo so, non lo so, non so ma cosa esiste, se esiste un facchio monio, ora ci arriviamo. Parole, parole usate in questo, in questo, in questo ambito. Saving rate è tasso di risparmio, cioè quanto guadagno meno quanto spendo, diviso quanto guadagno. Quindi se guadagno 100 e spendo 50 sto risparmiando il 50%. Se guadagno 100 e spendo 70 sto risparmiando il 30%. Questo si chiama saving rate in generale. avere un saving rate positivo o nullo quanto lo zero è un punto è una singolarità, non esattamente lo stesso dollaro, però esattamente è difficile. quindi l'obiettivo è comunque stare con cash flow positivo. Per sempre intanto dovrei definire cosa intendo con saving rate. Saving rate andiamo a specificarlo. SR uguale saving rate including dividends questo è un cheat se include dividendi dividendi profits from investments li sto includendo al momento ma sappiamo che è un cheat cioè un domani potrei stare a saving rate negativo e dire se faccio switch investimenti a più alto dividendo o saving rate positivo è un cheat mi piacerebbe parlare di saving rate da lavoro attivo quindi active saving rate saving rate cioè savings diviso income qui metterei including profits from investments e questo qui active saving rate è uguale savings diviso income excluding profits from investments ok in realtà se avessi non so se comprassi degli appartamenti li affittassi quello sarebbe un income che è un profitto da investimento oppure no più domande che risposte più domande che risposte what about rental properties qualora dovesse essere un futuro che al momento non lo è ma potrebbe non lo so non lo escludo al momento supponiamo saving rate maggiore di zero senza dividendi da investimenti ma magari incluso altre rendite passive da asset che generano un cash flow dovuto al loro affitto se mi comprassi un quadro se comprassi dieci quadri e li mettessi in una stanza e facessi pagare dieci dollari per uno per entrare a vederli quello per me farebbe parte dei profitti che definiscono le mie rendite attive la contabilità è un po' un casino è un po' un casino però facciamo così including rental properties lasciamolo così e poi potremmo chiamare working saving rate ma stiamo entrando in un loop che non voglio andare savings diviso income only active work income active work income qualora io non producessi più video da youtube ma venissero visti monetizzati e mi arrivassero delle royalties what about royalties what about royalties royalties affiliation old affiliations fatemi fatemi uscire fatemi uscire da qui fatemi uscire da qui fatemi uscire da qui non lo so ok non si non non voglio entrare troppo nella definizione però l'obiettivo è comunque stare è comunque stare con un saving rate maggiore di zero cioè far sì che il principal non venga intaccato a meno di necessità ovviamente quindi si lasci si lasci il principal il principal sarebbe diciamo il monte come si chiama come si dice in italiano il patrimonio il capitale investito lasciarlo evolvere di modo proprio idealmente forever in modo da lasciarlo alle prossime generazioni con una sorta di finché non arriva non arriva a certi punti mettiamo non so maggiore dei soldi che definisco mi servono per per essere indipendente un bel po' più maggiore un bel po' maggiore di quella quantità a quel punto posso extract a sustainable percentage when net worth maggiore 150 per cento fio ora extract a sustainable percentage each year if needed 150 eppure tanto scendiamo a 125 non è che sarà difficile definire fio fio money ora la strategia mi sembra un po' molto vaga molto vaga sto in una fase molto vaga della mia vita quindi in teoria aspetti filosofici work only on activities that I tolerate while net worth maggiore 50 per cento fio work only on activities that I really enjoy while net worth maggiore 100 per cento fio però va un po' in conflitto ok però devo anche mantenere saving rate maggiore di 0 che vuol dire se arrivassi a un punto come sto adesso devo fare questo o devo fare questo avevo troppe certezze anni fa avevo troppe certezze intanto definiamo cos'è fio money fio uguale fuck you money cioè uguale fuck you money uguale amount of money that defines me 100% financially independent e qui potrei partire un libro qui potrei partire un libro open questions open questions about that how to define financially free financially how to define fi should i use a fixed dollar spending rule no in case i decide to use one should i use 3% 4% no 2% oh shit no 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 si apre si creano problemi qui si vede si vede il l'ex fire enthusiast che si è scontrato con la realtà c'è il mondo della financial independence early retirement fire per gli amici è un mondo in cui è un mondo in cui il si si considerano gli studi di bengen del trinity study la regola del 4% eventualmente si sposta a 3 e mezzo 3 qualcosa 2,7 questo blog early retirement now ha una serie sul safe withdrawal rate che è qualcosa di meraviglioso sono forse più di 50 post eccoli qua 54 post oh attenzione fermo fermo c'è anche l'ultimo che è update on dynamic withdrawal rate based on shiller cape interessante e spiega tutti quanti i problemi con lo studio di bengen i problemi con il trinity study ha rifatto a degli spreadsheet pubblici in cui ha rifatto tutti i anticonti dai calcoli gli viene un safe withdrawal rate ideale in base a certe circostanze che sta attorno a un 3% e qualcosa 3.2 3.1 è un po' più ottimista degli analisi di delle analisi di di ben philix che però ben non ci mostra l'analisi questa cosa che è un po' un po' pecca qui abbiamo analisi un po' più serie vediamo un po' via safe withdrawal rate uguale safe lo sappiamo safe withdrawal rate suggerisco 4% earn ben quindi nel calcolare quanti soldi ci vogliono per essere financial independent ha senso utilizzare un un approccio basato su un safe withdrawal rate semplifica di molto i calcoli semplifica nel senso che se ipotizzo un concetto di safe withdrawal rate è facile capire quant'è il mio fuck you money ok è facile perché se ipotizzo un 3% vuol dire che se ambisco a spendere x l'anno quel x è il 3% del mio fuck you money postille ma non volevo parlare troppo di fire non volevo parlare di financial independence è è tutto quanto molto semplificato nel senso che il modello a safe withdrawal rate è pensato per uno uno spending regime molto rigido quindi tu spenderai sempre quella cifra lì aggiornandola per l'inflazione che nessuno fa così nessuno fa così l'andamento delle spese specialmente chi vuole andare in retirement molto presto non ha proprio idea di quanto spenderà nei prossimi 60 anni non ha proprio idea quindi in teoria è un modello molto semplificato e poi è inefficiente nel senso che tu non vuoi non vuoi fare un piano che funziona bene nel caso medio vuoi fare un piano molto robusto e molto robusto vuol dire che funziona bene nel 100 meno epsilon per cento delle circostanze però qual è è che se vuoi essere protetto per il 90% dei casi 95% dei casi 99% dei casi più vuoi certezze e più 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 pessimista devi essere con le proiezioni future sui vari ritorni il che vuol dire che se vuoi essere sicuro al 99% devi scegliere un safe withdrawal rate molto molto basso che vuol dire che nel 99% dei casi andrà bene se il futuro sarà uguale ai precedenti 150 anni altra assunzione difficile da fare e poi nell'1% dei casi andrà male ma nel 99% dei casi avrà uno spettro di andar bene che va dal ok arrivo che muoio con zero fino al muoio con infiniti soldi quindi in teoria è anche molto sprecata come cosa è come dire è come dire è come dire voglio una macchina che resista al 99,999% di tutte le possibili cose che possono accadere allora magari cosa succede che ci metti degli scudi antimeteorite fai uno strato di lamiera spesso mezzo metro che può resistere onde solari però poi la macchina non si muove cioè è proprio stupido come meccanismo uno dei migliori articoli di Early Retirement Now you are a pension fund of one ti spiega o al massimo due se sei in famiglia ti spiega che un fondo pensione può ragionare su distribuzioni e quindi può darti un'annuità diversa perché sai qualcuno arriverà a vivere 200 anni qualcuno morirà domani se tu sei da solo sei un fondo pensione per una sola persona o al massimo per due se sei marito e moglie e quindi devi poter devi poter gestire tu vuoi pianificare che tu possa vivere fino a 95 anni devi garantire 1% di probabilità di vita fino a 95 anni e poi assumi che muori a 95 anni un fondo pensione che ha tantissime persone dentro avrà una distribuzione di mortalità che è così quant'è la probabilità quanta percentuale della quanta percentuale della popolazione in questo fondo pensione arriverà fino a 80 anni il 63% quindi può pensare a una gestione economica che copre il sotto questa curva tu devi coprire anche questa parte verde che è uno spreco di fare un sacco di lavoro perché comunque hai solo un sample e quel sample devi pianificare che possa vivere molto a lungo nessun fondo pensione assume che tutti i pensionati vivano fino a 95 anni tu però c'è un fondo pensione è come se è un insurance per una persona sola devi assicurarlo per il caso peggiore quant'è il premio un po' un casino se non hai se non hai grandi quantità e teoremi del limite centrale è un po' un casino 95 anni sono un bel po' però se tu fai se tu vuoi essere safe non vuoi ritrovarti a 97 anni che fa oh cazzo il mio piano funziona fino agli 85 non sono ancora morto che faccio mi sparo anche perché in teoria in teoria uno che pianifica di ritirarsi presto magari è sottoposto a meno stress magari ha anche una certa disponibilità economica iniziale e quindi probabilmente potrebbe potrebbe avere una life expectancy maggiore c'è chi dice di no c'è chi dice realtà al contrario qualche studio dice che se sei se perdi sense of purpose se perdi se sei sconnesso dall'attività produttiva ti lasci andare prima però abbiamo sempre detto che fare il retirement non significa smetter di produrre ho visto che prima che qualcuno ha scritto bisogna considerare le tasse bisogna considerare le tasse sì sì bisogna considerare le tasse le tasse è un po' complicato prevederle e calcolarle perché uno che fa una pianificazione a lungo termine le tasse sono un'incognita possono aumentare diminuire possono subentrare tasse nuove quindi onestamente pianificare per la financial independence intesa come raggiungo un certo punto e poi sono libero è una cazzata devi sempre cioè o fai un overkill e dici se con le regole attuali considerato tutti i fattori mi serve 100 allora arrivo fino a 200 e a 200 posso essere sicuro che a voglia ha imprevisti per cui posso anche decidere di staccare tutto ma se arrivi a 100 non sei libero se 100 è l'altro target di essere libero arrivato a 100 non sei libero è come pianificare di arrivare a un appuntamento puntuale no devi pianificare di arrivare in anticipo perché se arrivi pianificare puntuale è il primo incidente arrivi in ritardo quindi odio i ritardatari detto questo torniamo qua sto andando un po' laterale però quindi tutte queste formule si basano sul fatto che c'è un numero c'è un numero x ora sapendo che questo numero x non significa libertà ma è una è una misura ok è una misura di più o meno quanto penso mi serva per poter essere ragionevolmente libero che significa che non mi rilasso infatti non continuo a mantenere un saving rate questo numero qui lo calcoliamo ancora vecchio stile con un safe withdrawal rate e con un desired spending regime nel mio caso è ancora più ridicolo perché perché quant'è il mio quante sono le spese che devo quant'è il mio annual spending target non ne ho idea perché mi baso sull'attuale l'attuale è sminchiatissimo causa tre bambine piccole causa child care aumenterà o diminuirà nel tempo boh credo spero che diminuirà in termini relativi in termini anche inflation adjusted spero diminuirà poi vivo in svizzera e se decidessi di tornare in italia boh annual spending annual spending target ovvio la definizione è chiara dovrei mettermi come obiettivo un annual spending target o dovrei misurarlo e aggiustare gli obiettivi in base a quello quanto dovrei dar priorità al al benessere e quanto dovrei dar priorità alla al non cedere all'edonistic adaptation cioè quanto del mio incremento di spesa è dovuta al fatto che mi sto lasciando andare ma non mi sta dando felicità e quanto è invece dovuta al fatto che mi sto lasciando andare ma sto avendo un beneficio perché sto vivendo in maniera più agiata cioè perché prendo più uber perché non sto più lì attentissimo a a tagliare i coupon per i buoni per la spesa domande difficilissime domande che una volta avevo risposta non ce l'ho più o in piena midlife crisis mi faccio molte domande apena target should I set it or just accept whatever accept our current spending regime should I resist fight or accept hedonistic spending growth is it just is it hedonistic adaptation or there is some value in it tante domande come sapevo tante domande tolta la parte filosofica per me la più importante però eh adesso andiamo sul andiamo sul concreto andiamo sul concreto andiamo sulla filosofia di investimento che è molto più concreto ok tutte domande tantissime domande sul senso del denaro il senso della vita quanto per cosa investo così ok non me le faccio più basta troppe domande voglio investire dei soldi che cosa quali quali principi possiamo usare partiamo dai principi di vanguard for principle for successful investing poi lo metteremo in descrizione sono 40 pagine non lo leggiamo è diviso in 4 però vediamo le macro aree che ovviamente concordo con tutte ok le 4 macro aree secondo vanguard sono obiettivi avere obiettivi chiari e appropriati per i propri investimenti è già qui già qui scricchia la qualcosa secondo è balance sviluppa una asset allocation che va bene per te utilizzando fondi diversificati in maniera ampia diversificazione asset allocation che va bene per te ok in questo c'è implicitamente scritto che sia sostenibile per te in termini di gestione del rischio in termini di dormire bene la notte e che usi diversificazione il più possibile minimizzare i costi questo è sacro santo sacro santo e disciplina una volta fatto un piano queste tutte quante cose fondamentali fatto un piano la cosa più importante è mantenerlo quindi essere disciplinato pensare a lungo termine e non seguire il vento che cambia sono gli unici principi non lo so però sono tutti i principi che concordo avere obiettivi ok un investimento appropriato dovrebbe essere gli obiettivi di investimento dovrebbero essere misurabili e ottenibili questo è un po' complicato ovviamente il successo non dovrebbe dipendere da investimenti esagerati tipo investito un miliardo investito il 90% su un etf che traccia il burundi e poi il burundi fa 20 per bravo no quindi il sizing degli investimenti è importante oppure su impractical saving or spending targets il mio futuro finanziario sarà ottimo perché spenderò 5 euro al mese e risparmierò gli altri 100 milioni perché lavorerò come director in una fang obiettivi non ragionevoli però è importante che nel mostrare gli obiettivi Vanguard suggerisca di porsi anche obiettivi di saving e spending io aggiungerei anche earnings ok definisci i goal clearly ok non sto lì ancora no balance develop a suitable asset allocation using broad diversified funds una strategia di investimento ragionevole inizia con un asset allocation un insieme di asset con differenti caratteristiche stocks bond e cash che fanno sì che tu possa raggiungerci gli obiettivi che ti sei posto bla 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 risk return bla 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 asset allocation diversification sono concetti diversi ma molto connessi ovviamente bla 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 gestire il balance balance tra rischio e potenziale reward bla bla minimizzare i costi e qui Vanguard fa una marchetta a se stesso ok quindi evitare cose con alti costi i costi come si ottimizzano i costi si ottimizzano sia a livello scelta del broker sia a livello scelta degli degli strumenti di investimento scelta di ottimizzazioni fiscali quindi veicoli di investimento ad esempio scegliere un broker ragionevole il mio broker preferito è interactive brokers scegliere strumenti di investimento etf sono al momento gli strumenti più efficienti che ci stanno all'interno di questi scegliere etf che minimizzano i costi e come veicoli di investimento ci sono vari veicoli di investimento che sono il tuo taxable account i tuoi tax advantage account ad esempio in Svizzera abbiamo dei fondi di secondo e terzo pilastro che sono investibili e quindi sfruttarli sfruttare gli aspetti fiscali scegliere accumulo e distribuzione in base all'efficienza fiscale nella tua nazione minimizzare i costi ok disciplina è la parte più difficile è la parte più difficile e oggi forse arriveremo a vedere una sorta di asset allocation a disciplina è la parte più difficile ok aggiungerei capital deployment qui dentro secondo me perché manca il concetto di piano di accumulo e piano di decumulo quindi come gestire il flusso di capitale disciplina mantenere prospettiva e disciplina a lungo termine investire può portare emozioni forti se ci sono dei market nel merdone qualcuno potrebbe dire porca miseria vendo tutto compro tutto vendo non faccio niente bla 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 la disciplina e la prospettiva sono skill molto importanti nel ragionamento a lungo termine sulla disciplina e prospettiva c'è anche lì un piccolo conflitto cioè quanta è disciplina restare su una strategia e quanta è follia restare su una strategia nel senso quando è che ha senso fare dei cambiamenti e quando ha senso restare dentro non te lo sa dire nessuno non ci non si hanno non abbiamo sfere di cristallo non te lo sa dire nessuno però credo che gli investimenti dovrebbero essere una cosa a bassa frequenza di cambiamento cioè ogni tanto va alzato lo sguardo e rivisti gli strumenti a disposizione altrimenti uno che investiva 30 anni fa un vecchio ancora ha stocks individuali perché non c'erano gli etf oppure ancora sta col fondo della banca al 3% di ter perché era l'unico modo per investire in america nel tempo cambiano gli strumenti diventano più efficienti e quindi rivedere gli strumenti ogni tanto ha senso rivedere anche l'asset allocation ha senso perché cambia l'età cambia cambia il patrimonio supponiamo che con patrimonio più grande più piccolo uno cambia l'asset allocation può aver senso e via detto questo tolte queste variazioni lente il resto deve essere fermo cioè la disciplina ci deve essere la mia personale strategia è che ogni due anni riguardo un po' la strategia quindi investment philosophy low cost etf diversification strategy review every two years asset qui andiamo andiamo poi su investing details prima di arrivare all'asset allocation ancora ci vuole ancora ci vuole ci aggiungo qualcosa di mio che sono factor investing no sector no sector no sector teams ci aggiungo minimize minimize bets bets fun money minimize non dico no perché c'è la gioia c'è la gioia nel fare cazzate c'è la gioia ecco un modo la filosofia è questa qui in investing fasting isn't better than dieting cosa vuol dire si usa spesso la frase tac insommiamo un po' fasting is easier easier fasting is easier than dieting cioè è meglio far dieta è meglio far digiuno che far dieta e negli investimenti a mio avviso chiunque chiunque ho conosciuto che non è un monaco zen a un certo punto gli viene voglia di scommettere su qualcosa c'è c'è negarlo è come fare there is no no nuts november in investing è come non masturbarsi mai quindi a mio avviso ci sta che una piccola percentuale dei propri investimenti vadano in 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 scommesse scommesse inteso come scommesse sempre in ambito sempre in ambito ragionevole nel senso sovraesposizioni sovraesposizioni a alcuni settori individual stocks exotic asset classes si dice così ma non non si dice esoterica si dice weird asset classes sector themes che ok ho detto no wait a minute ci sta ho visto tanta gente ho sentito tante persone dire a qualcuno no tu non investi mai un euro della tua vita nella cazzo di tesla anche se l'ami è sbagliato prima o poi lo farai e ci si farà male quindi ok datti x per cento di soldi x molto basso per investire in bet in queste cose qua in robe che siano bets fan oppure fan money dove questo fan indica investo in individual stocks di aziende che amo ok anch'io ci casco anch'io ci ci perdo soldi però ci sta ci sta minimize ok diversification prefer world funds ok global all country world funds factor investing overexposure to value factor continue slight exposure to small cap small cap stocks ok questa è la mia filosofia di investimento adesso andiamo su cose scendiamo un po' più in dettaglio andiamo un po' più dentro gli investimenti intanto define define which asset classes to invest your main investor to invest già escludo la parte fan money non è esclusa stocks sempre ETF stocks still good bonds ETF di bond probably probably good bonds individual maybe altri class derivatives derivatives no speculation just hedging crypto come on real estates real estate not in the short mid term rip ma come fai value factor investing te value factor investing si fa esponendosi a value factor value factor non è non è value non è value investing ok ok torniamo qui aggiunge mi hai fatto venire altri principi low cost buy and hold no market timing no ok minimal minimal market timing no no trading no value investing in the short mid short mid term no trading vorrei dire ever minimal market timing significa qualche strategia che un minimo ok madri prime oro private equity private equity part of fun money quindi soldi cazzeggio private equity unless it's my company unless we're talking about my companies commodities and precious metals not a huge fan no plan to hold them in the short mid term non escludo il futuro lontano ma non mi appartengono art pieces lol a bella gioconda ci starebbe bene mi definirebbe materie prime oro golden commodities private equity blah 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 private equity part of a money unless you buy a company metterei angel investing inteso come kind of private equity but but with active role in active role a la team ferris may be but not in the short term angel investing private equity intendo dire compro faccio crowd funding qualcosa in cui investo in private equities senza avere una attività senza avere un ruolo senza che l'azienda sappia che io esisto angel investing è del tipo bella questa idea di start up gli do una percentuale voglio il 10% e faccio anche l'advisor e quindi magari impatto anche il risultato dell'azienda su cui è ancora private equity è angel investing non è nei miei piani nel breve periodo però in un futuro potrebbe esserlo però non comincio da bombardarmi con ho questa idea rip dammi i soldi andiamo qui aggiungo principi aggiungo aggiungo principi I will handle my money my my investments myself che significa no active investing no financial advisor no no financial advisor unless it's just vetting it's just one off strategy vetting non escludo con domani possa direi 5 milioni magari dimmi se la tua strategia mi sembra giusta potrei accettare potrei andare da Ben Felix e pagargli una consulenza no robo advisor robo fees would go below 0.25% considererei un robo advisor purché and 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 full full transparency over the strategy transparency and predictability over the strategy and the assets used che significa si puoi anche mettermi i costi a 0 1% se però poi fai active investing come money farm che ogni volta c'è un crash sceglie di cambiare strategia e farti vendere ai minimi no e poi voglio sempre monitorare gli asset underlying che vengono utilizzati sono asset efficienti hanno basso terra c'è un qualche secondo fine per cui il robo advisor usa quegli asset e quindi via ok stanno diventando molti 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 principi use tax advantage accounts whenever possible and whenever and while it's financially efficient while in Switzerland maximise Pillar 3A eventually think about buy-ins in Pillar 2A ok invest them according to my overall strategy preferring using tax deferred account to hold stocks perché per esempio tax efficiente più efficienti dal punto di vista dei della tassazione come vedete ragazzi voi state dicendo sì ma quando ci dici quali etf comprare arrivare alla security selection è un passo molto molto cioè è l'ultimo degli step per cui direi che ne pensi di MSCI world è l'ultimo degli step l'ultimo degli step no active investing no financial advisor no rob advisor ok prefer global funds not fund per asset class all in one etfs like vanguard life strategy for example perché perché in realtà potrei non lo escludo la quota bond voglio gestirmela più a mano rimane da fare asset allocation e security selection che sono le cose che più vi interessano probabilmente troverò il modo di fare questi ragionamenti di finire l'ips offline e via che Grazie a tutti.